La cosa più bella della mia bici penso sia l'insieme, l'italianità. L'italianità c'è anche il campagnolo da ormai tantissimi anni al top della componentistica. La ruota nel colline del mezzo è molto importante, è l'unica parte che tocca terra, quindi sicuramente è quello che poi trasmetterà la forza e la potenza che imprimi sui pedali al terreno per permetterti di spostarti, quindi sicuramente la ruota è molto importante. La velocità è un qualcosa che sicuramente andando in bici puoi assaporare, puoi sperimentare anche ogni volta che ti trovi in una discesa, ma anche perché no in pianura. La libertà, l'aria sulla faccia, l'esplorare posti nuovi. È bello soprattutto per la mia esperienza personale quando vai in discesa al pieno controllo del mezzo e in una discesa magari tecnica e divertente dove puoi fare delle curve e sentire proprio la tua bicicletta sotto di te che ti fa provare anche delle emozioni.